Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Sermin, determinata a riconquistare la simpatia di Luce, si reca da lei con un dono. Dopo aver chiesto scusa per eventuali offese, le ha espresso gratitudine per prendersi cura di Zuleia mentre Demir è assente. Tuttavia, Sanye, con espressione scettica, avverte Luce di non credere alle scuse di Sermin, definendola una donna falsa desiderosa di ingannarla. Luce risponde di essere consapevole delle reali intenzioni di Sermin, accogliendola per educazione. Evita di trattarla male per evitare di offendere Betul. Entrambe concordano sulla bontà di Betul come persona. Sanye rivela che Betul si era sposata in Francia ma ha divorziato, e che Sermin non era stata invitata al matrimonio nonostante il coinvolgimento del padre. Nel frattempo, una donna arrogante irrompe nella villa cercando Demir e non credendo che luce non sappia dove si trovi. Sorpresa dalla presenza di una moglie, rivela di essere alla ricerca di Demir. Nel contempo, Zuleia accompagna Akan a ispezionare terreni di proprietà della Holding Yaman, alla quale ora appartiene. Fikret, ostile verso Akan, si irrita quando scopre il suo nome e lo accusa di nascondere il vero motivo della sua visita a Kukurova. Akan e Fikret stanno per scontrarsi quando Zuleia, esausta, li implora di smetterla, confessando la sua disperazione per la mancanza di Demir. Nella scena successiva, si verifica un salto temporale all'interno di un capannone sconosciuto. Un uomo si avvicina a un corpo a terra, gli toglie un anello presumibilmente appartenente a Demir, lo porta via e lo chiude in una cella frigorifera. Successivamente, sul tavolo viene inquadrato l'anello di Demir e delle mani che scrivono una lettera. La lettera e l'anello vengono inseriti in un pacco indirizzato a Zuleia. Akan si presenta nell'ufficio di Kadir, trovandolo in compagnia del suo braccio destro, Bedo. Si lamenta delle continue domande e insinuazioni di Fikret, in particolare riguardo a Zuleia. Bedo interviene minacciando di mandare Fikret da suo zio se continuerà a infastidire Akan. Un gelo si diffonde nella stanza quando Kadir, visibilmente infastidito, zittisce Bedo con uno sguardo intimidatorio. Akan, che ha notato la tensione, chiede a Kadir se ha ucciso Fekeli. Inizialmente nega, ma quando Akan ripete la domanda, Kadir confessa di averlo fatto perché Fekeli aveva scoperto la sua vera identità e lo aveva minacciato. Akan risponde accusandolo di aver assunto un'identità diversa solo per sorprendere Demir e confrontarsi con lui, affermando che tutti avrebbero saputo che non è M.M.K. Sottolinea il fatto che Kadir ha ucciso un uomo innocente. Kadir ribatte affermando che Fekeli avrebbe preso il controllo di tutte le ricchezze di Demir. Akan gli intima di non mentirgli e di non fare affari alle sue spalle, minacciando conseguenze una volta che esce dall'ufficio. Dopo l'uscita di Akan, Kadir picchia Bedo. Nel frattempo, alla villa, Luce è ancora con la donna che cerca Demir. Quest'ultima insiste nel cercare informazioni sulla posizione di Demir. Luce ribadisce di non sapere dove si trovi, ma suggerisce di parlare con la moglie. Zuleyya rientra in quel momento, e Luce si prepara a raggiungerla. La donna cerca di nuovo informazioni da Sanye, ma quest'ultima afferma di non sapere e le suggerisce di rivolgersi a Zuleyya. La donna se ne va sdegnata. Più tardi, alla pasticceria, la donna raggiunge la figlia Selma, lamentandosi di non sapere dove si trovi Demir. Selma rivela di aver scoperto che Demir è scappato di prigione e che nessuno sa dove sia, ma assicura che lo troveranno. Nel frattempo, mentre Zuleyya è nelle scuderie ad accarezzare il suo cavallo, Fikret si avvicina e ammette di aver reagito male con Mehmet. Tuttavia, esprime la sua sfiducia nei confronti di Akan, sottolineando il fatto che ha acquistato azioni in segreto e sta cercando di mettersi tra loro. Fikret si offre di proteggere Zuleyya, affermando che ha il suo dovere da fratello di Demir e che vuole preservare la sua sicurezza. Zuleyya, decisa a difendere la propria indipendenza, dichiara a Fikret di non essere una donna debole. Le assicura di avere dodici guardie armate a proteggerla, sottolineando che non ha bisogno né del suo dovere né del suo diritto di interferire nella sua vita. Le fa capire che invece di proteggerla, lui sta interferendo con la sua vita. Dopo che Zuleyya se ne va, Luce, che ha ascoltato la discussione dietro la porta, raggiunge Fikret. Gli fa notare che si è meritato la sfuriata di Zuleyya, poiché lei gli aveva detto molte volte di mantenere le distanze e di non intromettersi nei suoi affari. La gente ora insinua che lui si avvicini a Zuleyya per impossessarsi delle ricchezze degli Yaman. Fikret, stupito, risponde che tutti sanno che non ha bisogno di soldi e che Demir è suo fratello. Luce gli ricorda che Demir lo ha accettato come fratello quando è stato arrestato, dopo molti scontri. Conosce la sincerità del suo affetto per Demir, ma la cattiveria delle persone non comprende e fa brutte insinuazioni. Gli consiglia di non fornire loro motivi. Luce non aveva voluto riferirgli prima di queste maldicenze per evitare di farlo arrabbiare, sapendo che potrebbe reagire in modo impetuoso. Poi gli annuncia che quella sera andrà in hotel con Kerem, e lui deve trovare immediatamente una casa dove possano vivere, chiudendo così la bocca alla gente malintenzionata. Più tardi, mentre Luce prepara i bagagli, Zuleia la raggiunge e annuncia la sua partenza, sentendosi un peso per lei. Si scusa per il comportamento di Fikret e le esprime gratitudine per l'ospitalità e il calore che le ha sempre offerto. Zuleia, con le lacrime agli occhi, prega Luce di non andarsene, poiché ha bisogno di lei. Successivamente, Luce parla con Sanye, la quale le chiede anch'essa di non andarsene, poiché tutti alla villa hanno bisogno di lei. Le sottolinea che la gente è malintenzionata e dirà sempre cose negative. Luce spiega a Zuleia che la gente continua a pensare che Fikret e Demir siano nemici e che vivano li sono per interesse, approfittando dell'assenza di Demir. Per questo motivo, hanno bisogno di una casa per smentire le malelingue e per rimanere vicini a Fikret. Sanye comprende la situazione e abbraccia Luce, lasciando scorrere alcune lacrime. Nel frattempo, Sermin e Fusun escogitano un piano di vendetta ai danni di Sanye, coinvolgendo Gaffur. Quando lo vedono lavorare vicino a loro, iniziano a parlare ad alta voce delle terre vicino alla diga, affermando che stanno aumentando di valore ogni giorno. Suggeriscono che se vengono acquistate immediatamente, si rivenderanno a un prezzo cento volte superiore dopo pochi mesi. Gaffur, interessato all'ascolto, si avvicina. Quando Sermin e Fusun si allontanano, scoppiando a ridere, Sermin afferma con sicurezza che Gaffur venderà tutto l'oro di Sanye per comprare un terreno. Sanye capirà che è una vendetta e che non avrebbe dovuto investire. La sera stessa, Fikret cena con Cetin e condivide le sue preoccupazioni riguardo a Mehmet, sospettando che stia cercando di prendere il controllo dell'azienda in assenza di Demir. Fikret ritiene che, se Demir fosse presente, riprenderebbe le azioni e caccerebbe Mehmet da Kukurova. Fikret ritiene essere suo dovere proteggere Zuleya. Esprime preoccupazione per le frequenti visite di Mehmet alla villa, temendo insinuazioni maligne da parte della gente. Cetin suggerisce di parlarne con Luce, donna di buon senso ed esperienza, ma Fikret risponde che Luce non riesce ad essere lucida dopo la morte di Fekeli. In giardino, Luce racconta a Zuleya, Betul e Sanye dell'incontro con una donna di nome Aiden, stranamente truccata e vestita in modo vistoso. La donna non ha voluto spiegare il motivo della sua visita, affermando di voler parlare personalmente con Demir. Luce sospetta che possa cercare un aiuto finanziario. Betul risponde a Luce affermando che Demir aiuta sempre chiunque abbia problemi e che molti si rivolgono a lui per trovare soluzioni. In quel momento, Sermin arriva e informa Betul di una chiamata da parte di Fikret. Betul, quindi, si allontana per rispondere alla telefonata. Quando Betul entra in casa, Sermin, prima di darle il telefono, le consiglia di parlare gentilmente e ascolta la telefonata. Fikret spiega a Betul di aver risolto il problema della lettera con garanzia, consegnandola alla segretaria. Betul gli chiede se ha riferito la situazione a Zuleya, ma Fikret risponde negativamente, spiegando che i loro rapporti sono diventati tesi. Betul chiede dove si trovi Fikret, e alla chiusura della chiamata, informa la madre che andrà a incontrarlo per capire la causa del litigio con Zuleya. Sermin la assiste nel prepararsi per l'incontro, elogiandola e consigliandole di essere cauta, lasciando un'impressione positiva affinché la situazione tra loro possa migliorare. Betul, sorridendo, le assicura che tornerà tardi. Rimasta sola, Sermin esprime il desiderio che Fikret sposi Betul, in modo che anche lei possa sistemarsi. Sogna di comprare una macchina e una villa. Nel frattempo, in giardino, Zuleya confida a Luce che Fikret ha chiamato Betul per infastidirla dopo il loro litigio. Luce ammette di essere a conoscenza della situazione e sottolinea che Fikret non conosce i suoi limiti, ma è comunque una brava persona. Chiede a Zuleya di non arrabbiarsi con lui, e Zuleya assicura che non lo è, chiedendo a Sani il motivo per cui Fikret ha chiamato Betul. Luce spiega che il cugino Batiar, con cui si confidava, ha lasciato Cucurova, e probabilmente Fikret l'ha chiamata per discutere della situazione. Più tardi, Luce è con Zuleya, raccontandole il motivo del litigio con Fikret. Zuleya le spiega che Fikret sta cercando di proteggerla per evitare insinuazioni sulla sua relazione con Mehmet. Zuleya risponde che ha solo il punto di vista di Fikret e che può proteggersi da sola. Zani rivela che in paese circolano voci su Fikret, sospettando che voglia appropriarsi delle ricchezze degli Yaman. Luce, quindi, vuole andarsene per mettere a tacere le malelingue. In un caffè, Betul e Fikret discutono della responsabilità affidata loro da Demir riguardo a Zuleya e ai bambini. Fikret, preoccupato per Mehmet, esprime la sua sfiducia e la necessità di proteggere la famiglia. Betul, tuttavia, non ha notato comportamenti ambigui e ha fiducia in Mehmet. Gli assicura che starà attenta a lui. Mano nella mano, lasciano il locale insieme. Ghaffur informa Sanye di un'opportunità di investimento vicino alla diga, suggerendo di comprare un terreno con un investimento di 20.000 lire che potrebbe fruttare 100.000 in pochi mesi. Sanye, indispettita, minaccia Ghaffur di ucciderlo se si prende quei soldi. Ghaffur, contrariato, se ne va e incontra Rashid, proponendogli un affare. Nel frattempo, Fikret e Betul passeggiano per il paese, scherzando e chiacchierando, finendo per scambiarsi un bacio. Più tardi, si ritrovano a letto insieme. La mattina successiva, Fikret si veste per andarsene mentre Betul dorme. Al momento di uscire, le comunica di avere un appuntamento importante e che sarà impegnato per tutto il giorno, lasciandola delusa. Uscendo dal luogo, Fikret è nervoso e si domanda cosa abbia fatto. Successivamente, Zuleya e Betul vanno in ufficio insieme. Zuleya le chiede se ha parlato di Demir con Fikret e cosa lui le ha detto. Betul risponde che Fikret ha speranze di trovarlo con l'aiuto di un amico. Zuleya poi le chiede se hanno litigato per Mehmet, poiché Fikret non si fida di lui. Betul conferma e Zuleya le domanda se lei si fida di Mehmet. Betul risponde di sì, spiegando che vede che lui fa tutto ciò che le viene chiesto e le ha persino dato una procura per firmare al suo posto. Nel frattempo, Akan si reca da Kadir e esprime il suo dispiacere per la morte di Fekeli, sostenendo che non meritava di morire. Kadir spiega di aver preso quella decisione perché Fekeli aveva scoperto la sua vera identità. Akan gli chiede se può ancora fidarsi di lui o se preferisce che le loro strade si dividano. Kadir risponde che penserà a ciò e Akan se ne va. Rimasto solo, Kadir esprime tutta la rabbia repressa e dichiara che, se Akan facesse ciò che lui vuole, non otterrebbe nemmeno un centesimo della fortuna degli Yaman. Zuleya assegna a Betul l'ufficio di Erjan e chiede a lui di recarsi all'ufficio delle imposte, dove risultano delle pendenze. Nel frattempo, Betul va nell'ufficio di Erjan e sottrae alcuni documenti, nascondendoli in una cartellina che tiene in tasca. Quando Erjan entra nella stanza, Betul gli spiega che non è stata una sua decisione cacciarlo dall'ufficio, ma una scelta di Zuleya. Gli propone di passare il fine settimana ad Antalya insieme e poi gli porge la cartellina con gli elenchi di pagamento, chiedendogli di firmare. Gli assicura che non c'è bisogno di controllare, poiché lei ha già fatto tutto, distrandolo con la conversazione sulla loro gita romantica. Erjan firma senza controllare, e Betul prende la cartellina, affermando che se ne occuperà lei per alleggerirgli il lavoro. Quando Erjan cerca di baciarla, Betul si allontana prontamente e se ne va. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti Voglio il continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie a tutti!